Un saluto dall'Etigi della mobilità Metro B, sostituzione di scale mobili e ascensori. Dal 29 di novembre sarà chiusa la fermata di Policlinico. Le alternative di trasporto sono su romamobilita.it, sempre sulla linea B per gli stessi lavori, lo ricordiamo, è già chiusa la stazione di Castro Pretorio. E fino al 7 di dicembre, per lavori sui binari e per delle potature tra Viale Trastevere e la circonvallazione Gianicolenze, la linea tramviaria 8 è sostituita da bus. Inoltre, per ridurre i disagi agli utenti, la linea H effettua tutte le fermate presenti su Viale Trastevere e la Gianicolenze.